Nel momento in cui rifetti la notizia della strage del 23 maggio, mi trovavo a casa a Palermo, però avrei dovuto essere in quell'aereo con Giovanni Falcone e nella macchina con lui, perché dovevamo tornare insieme da Roma, solo che la sera prima mi disse che avrebbero dovuto rinviare la partenza fissata per il venerdì 22 maggio alla mattina successiva. Io cercai un volo di linea, così come gli dissi, perché avevo necessità di rientrare quella sera a Palermo. Per fortuna lo trovai all'ultimo minuto, probabilmente ero un posto lasciato libero a un parlamentare perché è la prima fila, posto 1L, quel volo ricordo ancora e conservo il check-in delle 19.40, in barco all'Italia. Bene, quindi si può immaginare come non avessi, non si può descrivere quello che provare nel momento in cui sentì la notizia alla televisione, questi sentimenti di rabbia, di impotenza, di vuoto, però la televisione aveva detto che non era ancora morto Giovanni, allora mi recai di gran corsa all'ospedale, è appena arrivato e mentre percorrevo quella strada pensavo dai Giovanni cerca di farcela, di resistere, perché sei stato sempre fermo al timone della tua vita contro tutte le avversità, adesso sei stata una nostra guida, il nostro scudo, cerca di resistere, però purtroppo dopo pochi minuti dell'arrivo in ospedale ebbi la notizia che non c'era più niente da fare. Per quanto riguarda Borsellino invece il 19 luglio mi trovavo a Roma e anche lì appresi la notizia dalla televisione e in quel momento io ero al Ministero della Giustizia con il Ministro Martelli e senza che nessuno ci convocasse tutti i magistrati ci ritrovammo al Ministero per capire cosa si poteva fare perché l'impressione dopo era terribile. Il Ministro con un aereo ci portò tutti a Palermo e lì ci furono delle riunioni concitate che poi si conclusero con il decreto firmato allo stesso Ministro Martelli di trasferimento all'asinara dei detenuti mafiosi del Lucciardone. Poi io dovetti tornare per aspettare una delle figlie di Borsellino e riportarla per i funerali che si trovava in vacanza nel sud-est asiatico ebbi questa missione di ricevere la figlia e darle anche i particolari della vicenda. Se chi è disponibile a fare il proprio dovere in Italia deve essere qualificato come eroe e devo essere indicato come soltanto delle mosche bianche, beh, siamo ridotti veramente male. Quindi la disponibilità al servizio, la disponibilità, ecco, non deve essere vista come eroe. Come un eroe. Anche perché oggi non abbiamo più gli eroi e non abbiamo più necessità, non dovremmo avere necessità di avere eroi. Oggi c'è bisogno di una massa di persone che riesca a cambiare la realtà. Quindi questa è la prospettiva entro cui ci dobbiamo muovere. E ai giovani bisogna dare questo messaggio, che ognuno di loro deve partecipare per cercare di cambiare l'esistenza e avere la speranza di poterlo cambiare. Perché spesso, ecco, come ho scritto nel mio libro Liberi tutti, letta a un ragazzo che non vuole morire di mafia, si può morire di mafia non solo come vittima della violenza mafiosa, ma anche muore di mafia chi si volta all'altra parte quando vede commettere delle illegalità, per chi chiede dei favori potenti, per chi vuole sfruttare il clientelismo, l'opportunismo, per chi, insomma, sposa quei codici di comportamento che sono tipici della mafia. Allora lì, ecco, un giovane non può rimanere privato della sua libertà, della sua volontà di esplicare, aver riconosciuto tutti i suoi meriti e cadere vittima della mafia. Quando io ero ragazzo non si sapeva cos'era questa mafia. C'era chi ne parlava sotto il profilo romancesco, il padrino, allora era un romanzo molto diffuso, chi diceva che era una sorta di comportamento tipico delle popolazioni del sud siciliane in particolare, chi diceva che era gangsterismo puro, e nessuno sapeva cos'era. Oggi attraverso i collaboratori di giustizia, attraverso le indagini, le operazioni di polizia, abbiamo capito che cos'è e cerchiamo di farlo capire anche ai giovani, agli altri, ma anche agli adulti, per comprendere come la mafia è un fenomeno non solo criminale, ma è anche un fenomeno economico, un fenomeno sociale, un fenomeno politico, finanziario, quindi ecco perché Falcone diceva che se fosse inserita in un sistema fondamentalmente sano basterebbe un'operazione di polizia. In realtà noi facciamo tante operazioni di polizia, ogni giorno la cronaca è piena di operazioni, di catture, di latitanti, di arresti, di sequestri di beni, eppure siamo ancora qui a cercare di risolvere il problema della mafia e quindi la soluzione finale ancora non la intravediamo. Perché? Perché arrestando le persone non si risolve il problema se non si risolve il problema dei bisogni della gente e della forma di intermediazione che la mafia compie con la politica per cercare di promettere quantomeno la soluzione dei problemi di chi ha problemi di sussistenza, di esistenza, di dar mangiare ai propri figli. E finché non si risolveranno questi problemi e la lotta alla mafia non sarà una lotta che coniuga la repressione alla lotta per la conquista di un benessere sociale. E allora finché non ci sarà questo sarà difficile intravedere la soluzione finale. Se si cerca in un vocabolario la parola legalità si vede che c'è scritto osservanza delle leggi e delle regole. Però ci vuole qualcosa di più che l'osservanza delle leggi. Cultura della legalità è un insieme di principi, di idee, di comportamenti che devono spingere i giovani a realizzare i valori della libertà, della democrazia, della giustizia ma anche della non violenza, della tolleranza verso le altre etnie, della pace. Insomma, un sistema e un modo di concepire la vita e il rapporto con gli altri assolutamente diverso. E questo è il messaggio che cerchiamo di dare ai giovani.